Salve, sono ancora io alla radio. C'è chi fa campagne pubblicitarie altrove, ma non qui. Forse ti sfugge che ascoltare prima gli spot in radio aumenta l'attenzione e il ricordo delle campagne e migliora la performance di tutti i media. Chi ascolta gli spot in radio è più attento e ricorda meglio i brand visti in tv, sul web, su stampa e affissioni. Investi in radio. La radio rende. Scopri il ritorno dell'investimento della radio. Motore di crescita sulla radiorende.it